Ciao, oggi faremo un video bellissimo. Vedete che stiamo facendo la scioltezza? Ora vi spiegherò la nostra scioltezza, visto che l'avete chiesto. Dopo che abbiamo fatto un bellissimo riscaldamento, perché bisogna scaldarsi bene, ci mettiamo in spaccata con due rialzi, dove mettiamo bene sopra il tallone e il ginocchio. No, no, stai, stai. Tallone e ginocchio, le braccia dietro, le spalle più dritte possibile e questa posizione la teniamo per un minuto. Un minuto in questa posizione dove cerco di raddrizzare le spalle e tenere la testa indietro. Ok, passato un minuto, un minuto di testa indietro. Se è la vostra gamba, per le giambe cambio ad anello o le giambe ad anello, faccio dieci volte, piego e stendo. Ok? E questa posizione la tengo per un minuto. Quindi, ricapitolando, un minuto normale, un minuto testa indietro e se è la vostra gamba, non è il caso della Giadi perché è l'altra gamba, devo piegare e stendere dieci volte. Perfetto. Questo lo facciamo sia per la gamba destra che per la gamba sinistra. Ok? Avete già cambiato gamba? No. No. Cambiamo gamba. E anche l'altra gamba mettiamo su il tallone e il ginocchio dietro. Posiziono le mani e faccio partire un minuto. Un minuto completamente ferme. Vedete che abbiamo il telefono per terra perché stiamo guardando gli europei mentre facciamo la scioltezza. E sempre lo stesso lavoro. Quindi, un minuto in questa posizione ferma cercando di raddrizzare il più possibile le spalle. Dopodiché, adesso andiamo un po' più veloce perché sennò si annoiano. Dopo che è passato un minuto testa dietro e sto ferma ancora per un minuto. Ha già di la sua gamba quindi fa anche dieci piegostendo. Piano. 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 Benissimo. Il prossimo esercizio per la spaccata frontale sempre sul rialzo. Un giorno facciamo che va sopra la gamba destra un giorno la gamba sinistra pancia a terra e le braccia in fuori. Quindi le braccia non devono sopportare il peso del corpo per alleggerire sulle gambe. Rilassate pancia a terra e per due minuti rimango in spaccata frontale. Un minuto in questa posizione e un minuto con la punta martello. Adesso normale. perfetto. Intanto Irene e Camilla si sono messe nella spaccata sagitale. Come prima vedete che anche Ire ha il tallone su davanti e il ginocchio dietro. Camilla anche. ecco qua troviamo la Emma anche lei in spaccata adesso ha le punte a martello perché è già passato un minuto e trenta e qua c'è Letizia anche lei vedete braccia in fuori e è perfettamente in spaccata. ok siamo adesso alla scioltezza delle punte dei piedi e partiamo vai Letizia con le gambe tese le punte girate in sotto attenzione bene che le caviglie siano una contro l'altra e il collo del piede ben unito qua per avere le punte bellissime bacino duro ok perfetto qua c'è la Emma andiamo dall'altra Emma vedete le punte bene in sotto i piedi perfettamente uniti qua c'è Erika stendi bene le ginocchia Eri e qua c'è la Giadi dopo aver fatto un minuto piego quindi piego bene le ginocchia spingo bene il collo del piede avanti bacino in avanti schiena bella rotonda e anche per questa posizione faccio un minuto perfetto ecco sicuramente troverò qualcosa dietro e cado per terra perfetto ok passiamo la schiena passiamo ai ponti quindi dopo esserci scaldati la schiena facciamo i ponti dai in piedi ponte e mi alzo con le braccia bene strette ponte verticale e mi alzo i piedi perfetto perfetto adesso schiacciate gambe tese naso sulle ginocchia mani per terra massima chiusura per 30 secondi brave e di qua ci sono le altre quattro gambe tese naso bene sulle ginocchia per 30 secondi la grace non lo fa perché l'hai già sciolta abbastanza ok sono 30 secondi apro bene con i piedi girati verso l'esterno cerco di portare fuori la testa dai 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 anche qui 30 secondi dai 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 vai letti e da questa parte ci sono le altre quattro mancano 5 secondi brava micchi brava giadi dai dai schiacciare di più e stop piego mi giro e mi piego in accosciata cercano di lasciare i talloni giù e spingo avanti bene le ginocchia anche loro vedete bene la caviglia queste sono per gli arrivi dei doppi salti al corpo libero no per qualsiasi salto per l'arrivo di qualsiasi salto la mobilità delle ginocchia delle caviglie giusto Letty ok stop vi abbiamo fatto vedere la nostra sceltezza una parte degli elementi della nostra sceltezza ciao 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 ciao